vabbè magari questo è natale il mare non ci azzecca perchè fa un freddo cane questo inoltre l'ho avuto era la stagione che praticamente era diventato tutto congelato già frozen la stessa cosa fa un freddo mettiamo anche questo certo è un po' prestino non sto dicendo quello che dovrei dire all'inizio ma solo per un motivo ce lo so l'unico problema è un fucile d'assalto solo che mi devo muovere io ho perso tempo a cercare di prendere materiali e tutto il resto devo cercare appunto anche un fucile da cecchino vabbè in momento devo dire grazie che mi hanno dato un fucile d'assalto perchè fino ad ora sono stato senza un fucile d'assalto quindi holle vena vena Sì Troppa gente Oh No Brutti Stato un casino Oh Ho fatto un erroraccio andare lì Oh Questa è stata fortuna Trovare questo medikit ci cambia la vita Anche se sta finendo la partita Vabbè Quante uccisioni ho fatto Veramente pochissime Eh fai pure la dab ma Avrei voluto farne molte di più Mi sono salvato tante volte per miracolo Ma due uccisioni veramente pochissime Noi ne vogliamo molte di più Ma molte di più Non ho manco trovato un cecchino Che è nervoso Noi ne vogliamo molte di più Noi ne vogliamo molte di più Noi ne vogliamo molte di più